Il Tavuglia City Branding nasce come idea progettuale già dallo scorso anno. L'intento è quello di far riconoscere Tavuglia, che già come nome è conosciuto grazie ai nostri campioni del mondo, di farlo riconoscere ovunque con un logo, con un marchio, questo famoso brand di cui si parla. La cosa che ci ha spinto è il fatto di poter riconoscere sotto un unico brand sia le persone che vivono a Tavuglia, sia tutte le persone che la amano da fuori e posso dire che sono tantissime perché migliaia di persone ogni anno passano per Tavuglia. Sempre di più, lo abbiamo visto in questi anni, siamo consapevoli che le risorse per fronteggiare la situazione soprattutto di minori con disabilità sono sempre meno e a volte non si riesce nemmeno a dare l'intero servizio educativo a scuola o assistenziale a casa. Quindi abbiamo anche pensato, e qui devo ringraziare la VR46, l'azienda che è sul nostro territorio, che ha già un'esperienza notevole su progettazione e vendita, insomma tutta una rete commerciale. Grazie a loro abbiamo pensato di produrre dei gadget, degli oggetti con il logo da poter vendere. Tutto il ricavato andrà in un apposito fondo comunale che servirà per sostenere sia i servizi educativi e assistenziali dei bambini con disabilità. Quindi questo brand unisce due fattori importanti per un comune. Uno è quello della comunità, del riconoscersi anche sotto un aspetto promozionale e turistico. L'altro è sotto quello della parte sociale che è la parte più rilevante dell'attività del comune. Una novità è quella che dal prossimo Natale, siccome abbiamo visto che per i bambini è stato un anno particolare, una vita un po' strana rispetto al solito, daremo il primo gadget, chiaramente lo regaleremo come dono di Natale a tutti i bambini delle scuole del nostro comune.